Truffa ai danni della GEA per conseguire contributi agricoli con finti contratti che risultavano intestati persino a persone morte da oltre 20 anni. La Guardia di Finanza di Sciacca ha sequestrato beni per 240.000 euro nei confronti di quattro indagati responsabili di un'azienda zootecnica dell'Agrigentino. La misura è legata alle indagini condotte alle fiamme gialle che hanno fatto luce su un meccanismo finalizzato a gonfiare gli importi con risposte a titolo di contributi a fondo perduto dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura con fondi dell'Unione Europea. La norma prevede infatti che l'entità della sovvenzione spettante a ciascun beneficiario sia calcolata sulla base della disponibilità dei fondi destinati alle attività agricole. Gli indagati hanno più volte truffato dichiarando di condurre superfici di terreno agricolo superiori al reale mediante la presentazione di falsi contratti di comodato e affitto di terreni stipulati all'insaputa dei proprietari stessi dei terreni. Diversi proprietari interpellati agli investigatori hanno disconosciuto le firme apposte sui falsi contratti prodotti ai competenti uffici per poter beneficiare delle erogazioni pubbliche mentre altre persone riportate nei fittizi contratti di comodato o affitto di terreni sono risultate decedute da oltre 20 anni o emigrati negli anni 50 e 60 in paesi del nord Europa o in America.